L'idea era questa, non fare semplicemente una locandina, ma siccome appunto si tratta di un festival sul cinema, era bello immaginare una locandina di un film fittizio, che era il film del festival. All'inizio doveva essere una locandina sola e poi è diventata una trilogia. Nella prima locandina c'è la ragazza in braccio alla creatura, infatti l'idea parte da un po' questo omaggiare le locandine di genere, però immaginavo che la creatura fosse la ragazza stessa, cioè la ragazza in braccio è un clone della ragazza originale. Nella seconda locandina vediamo bene nella testona della ragazza, nella seconda locandina si vede che ha tutti gli ambaradà, meccanici eccetera, e ha la fascia che è diventata una fascia in testa, al volto scoperto, la F si è spostata e è diventata una specie di cicatrice sul suo occhio, per cui riveliamo che il mostro era in realtà lei, la cattiva in primo piano che sta cercando di fare le sue cose, e nella terza finalmente abbiamo loro due assieme che sono contrapposti alla cattiva che è sullo sfondo sconfitta, e la ragazza clone ha la testa nel vaso che è stata per qualche motivo imponderabile, è stata staccata dal suo corpo meccanico, forse gliene faranno, verrà attaccata un clone, non lo so, potremmo andare avanti all'infinita, perché poi uno disegnando si fa venire idee, cose.